Lore, ma tutto il tuo progetto? Lore? No, niente. Lorenzo non ce l'ha fatta, come vedete. Questa mattina ha deciso di svegliarsi nel suo letto completamente putrefatto. Lore, riprenditi. Credici in te stesso. Niente. Lore, ma l'hai scritto o no, questo progetto sulla depressione? Non è scritto niente, hai perso tempo. Allora stacca, Lore, stacca tutto e fa una cosa. Scappa! Grazie a tutti.